Ciao ragazze sono Nathalie e oggi con voi faremo questi due belle nail art allora cominciamo, ho già le tip pronte, una blu e una rosa chiaro, userò quei pennelli lì mi serviranno due tipi di foil di quei colori che avete visto e userò questi colori qua di semipermanenti allora cominciamo col primo, prendo il pennello per le sfumature e metto un po' di brillantini nella parte superiore prendo ancora un po' e andiamo a fare la sfumatura a secco che la sappiamo già fare come vedete tiro colore fino a finirlo così nella parte superiore rimane un po' di più e poi vai a finire in niente e vado in lampada nel frattempo vi faccio vedere come usare i foil allora io ho scelto questi due colori qua, bisogna pulirli nella parte inferiore con un po' di cleaner e lasciarli asciugare a modo perché purtroppo, soprattutto in quelli cinesi da poco prezzo ci sono dei residui di polvere di produzione e quindi bisogna toglierla altrimenti non funzionerà in poche parole poi io vado a prendere colore nero con la dispersione, mi raccomando e vado a disegnare queste roselline facilissime da fare li abbiamo già fatto come vi ricordate con l'effetto zucchero sopra il trucchetto di ogni petalo qual'è? che come vedete in centro c'è una specie di triangolo e poi da lì vado a tirare fuori il colore con questo codino un po' più sottile per assottiliare un po' quindi io vado a disegnare la prima un po' più grande qua e la seconda non ve la sto a far vedere tanto si disegna nello stesso modo e vado in lampada nel frattempo prendo l'altra tip che è già pronta e con un colore giallo voi potete scegliere il colore a piacere sia di sfondo sia di ombrello e vado a disegnare la parte superiore di ombrello allora il mio colore era un pochino più trasparente quindi io non l'ho fatto vedere qua ma ho fatto anche una seconda passata quindi guardate voi se è più pigmentato o meno regolatevi da sole e vado in lampada ora appena è uscita la nostra tip vado subito ad appiccicare il nostro foil guardate un pochino si è sporcato può capitare anche se io sul colore non ve l'ho detto avevo già messo il top senza dispersione prima di disegnare tutto però può capitare quindi prendiamo solo un pato imbevuto in cleaner e semplicemente togliamo così si toglie tutto facilmente io ora disegno delle foglie che dovranno essere verdi in questo momento ci ho ripensato e ho deciso di colorarle del tutto perché ho ripensato di fare alla fine un effetto un po' diverso quindi disegno colore e vado in lampada sono usciti dalla lampada vado a appiccicare il mio verde sulle foglioline come vedete è molto facile dopodiché vado 10 secondi in lampada così facciamo agire la dispersione e si attaccano ancora di più al colore i foil quindi metto il top come l'avete visto e vado di nuovo in lampada prendo l'altra tip e metto un po' di colore arancione su un lato del nostro ombrello e andiamo a fare la sfumatura a secco come sappiamo già farla verso l'altro lato da destra a sinistra andiamo a sfumarla e andiamo in lampada ora prendo un gel bianco pigmentato e vado a fare dei contorni delle folie e delle nostre roseline quindi qua non c'è niente di difficile come vedete non sto particolarmente attenta a fare tutto sottile anzi più irregolari sono meglio sono come vi dico sempre ecco ho fatto delle foglioline e adesso comincio con delle rose nel mentre io faccio le rose che purtroppo qua non c'è niente da spiegare io vi faccio vedere il lavoro di una ragazza che ha fatto eccolo qua tutte e tre tip del video scorso e anche un altro tip di un altro video guardate vi ricordo se volete vedere i vostri lavori provate a farli mandatemeli in privato oppure quando li pubblicate menzionatemi così io riesco a vederli e metterli nei prossimi video e mi farà molto piacere ovviamente che voi li provate vuol dire che io non faccio questi video a vuoto allora come vedete faccio tutti i contorni sto finendo di disegnare la prima e adesso vi appare anche ecco disegnato tutto quanto vado in lampada e dopodiché non devo ricoprire più niente perché come vi ricordate io avevo già messo il top ed ho disegnato sopra col gel che il mio è senza dispersione nel caso che il vostro è con dispersione allora potete disegnare prima tutti i contorni e dopo mettere il top alla fine per non fare 30 giri di top io prendo la nostra tip con l'ombrello e faccio tutti i contorni del nostro ombrello col bianco sempre dipende dai colori che sceglierete potete usare poi nero per evidenziare meglio o come vi viene insomma guardate dai colori che utilizzate io ho voluto prendere un po' i colori diversi ombrello ha i colori autunnale invece lo sfondo no in questo momento io vado a disegnare il manico del nostro ombrello alla fine se volete potete anche decorare il manico nella parte finale con qualche strass sarà molto carino e sono andate in lampada ora vado a fare ultimi dettagli del nostro ombrello metterò anche pungiglione in cima e vado in lampada dopodiché metterò che non lo faccio vedere il top e vado di nuovo in lampada come ultima cosa io metto su ombrello delle gocce piccolissime di gel e vado in lampada così sembra che sta piovendo allora ragazze abbiamo finito qua non è proprio un disegno autunnale però vi ho fatto vedere la tecnica e voi potete disegnare qualsiasi cosa abbiamo disegnato anche questo ombrello simpaticissimo quindi spero che li provate e io vi saluto ai prossimi video ciao